dalle prime luci dell'alba i carabinieri della compagnia di napoli bagnoli stanno effettuando un servizio a largo raggio nelle strade del rione traiano le operazioni sono ancora in corso e sono osservate dal nucleo carabinieri elicotteristi di ponte cagnano i militari della linea territoriale insieme con quelli del reggimento campania stanno setacciando le zone maggiormente sensibili nel mirino abitazioni di persone sottoposte a misure detentive ed anche scooter e automobili all'apparenza abbandonati ma possibili nascondigli per droga e armi sono ancora in corso le perquisizioni